Qua è la matrimoniera, la matrimoniera, la matrimoniera, la matrimoniera. Grazie. 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 Scusate, però, per quel problema di Covid, se ne siamo troppi qua dentro. Per questo ci dobbiamo dividere anche con l'altra stanza. Cioè, almeno le sedie e anche le sedie occupate non è, ma siamo una persona in più. E' che siamo veramente troppi. Siamo troppi qua dentro. Ci lo scusa, però. Ecco. E' il numero uno, posso andare. E' il numero uno, posso andare. No, non c'è il numero uno. 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 Vi ho avuto una macchina. Scusate, non c'è il numero uno. Mi hanno dato un po' di aspettare. Se noi non ci vediamo, aspettiamo cinque minuti. Hai riso di appunto alla dominica? Grazie a tutti.